Ecco la cartina di trasferimento sicuro, i paesi dove trasferirsi e dove fare business. Qui puoi vedere praticamente bassa tassazione, media tassazione, alta tassazione e poi inferno in nero, in nero c'è l'inferno fiscale. Quindi abbiamo messo insieme questa cartina per individuare i paesi dove consigliamo di andare, quelli dove sconsigliamo sinceramente di andare e guarda caso l'Europa occidentale è colorata di nero completamente, a parte la Svizzera che la salva, la Gran Bretagna e il Portogallo. Si vede dalla contrapposizione con l'Europa orientale, poi ci sta il Golfo Arabo, dove ci sono Dubai, il Bahrain, tutti i paesi molto accoglienti. Poi c'è la Malesia, la Tailandia, Singapore, quindi ci sono questi, possiamo dire questi cluster di paesi, ecco qua poi nei paesi tropicali, nei paesi del tropico, qui nel Golfo del Messico. Ci sono questi cluster di paesi accoglienti. Fondamentalmente vediamo quattro cluster. Possiamo parlare del cluster nel Golfo del Messico, dove sono le Antille. Poi c'è questo cluster attorno nel Golfo Arabo, nella Penisola Araba. Poi ci sta l'Estremo Oriente, Bulgaria, Romania, Bosnia, Montenegro, Macedonia. E poi ci stanno i paesi del sud-est asiatico. Quindi sono tutti, ecco diciamo, stiamo definendo un po' una specie di geopolitica fiscale. Comunque questa cartina sarà, ancora non vi dico, ancora non vi dico come la distribuiremo e dove sarà disponibile. Restate connessi, nelle prossime settimane avrete tutte le novità. Qui ci sta pure una piccola sezione. Ecco qua, trasferimento sicuro. Goodbye! Ciao, ciao! Ciao a tutti